Grazie a tutti. Questa è la valle di Glen Hattiv, vicino a Glencoe, in Scotlande. Questa mattina abbiamo crossato il rivero per una piazzata per arrivare in questa glena. Abbiamo filmato due gruppi di piazzoni rosso a questa locazione. Dopo filmare i piazzoni a Glen Hattiv, abbiamo deciso di prendere la nostra tenta e lavorare 10 km nella montagna, per l'area chiamata di Sanctuary. Questo è il nostro 7o giorno qui nel valle, filmando i piazzoni. Stiamo arrivando da Glencoe, e dietro a me è Glen Hattiv. Stiamo arrivando al Sanctuary dei piazzoni, sarà un lavoro di 10 km. Siamo arrivati e vedremo cosa troviamo. Per tutto il nostro tempo camminando, trovavamo attraverso i piazzoni con le piazzoni che vivono in un sottile. Possiamo dire da queste margine che erano circa 4 adulti e il loro bambino. Stiamo camminando con i piazzoni questa mattina, da 10 km. è circa 3-4,5 km. Questa piazzoni è meravigliosa e il suo nome è Deer Sanctuary. Un'altra cosa che mi piace davvero di questa valle sono le tre rute. C'è evidenza che i piazzoni hanno stato rubato la pezzoni di piazzoni sui piazzoni prima che si rubano. Ora abbiamo visto alcuni piazzoni che si rubano e ora possiamo vederli là. Abbiamo visto i piazzoni riusciti al top dell'orizio. L'hanno stoppito per un tempo per guardare noi e per vedere se erano sicuri. E poi si riuscite verso la prossima valle. Abbiamo deciso di seguirli. Abbiamo scoperto la piazza per 40 minuti. Durante il tempo che stavamo riusciti, erano probabilmente ancora riusciti. Abbiamo visto i piazzoni sul prossimo orizio, sui piazzoni, 2 km. altri. Dopo il nostro traccio nelle montagne, torniamo tornato alla parte del glen in Glenative. A questa locazione potete trovare un piazzoni di piazzoni. Qui mantengono i piazzoni sul vento in un piazzoni. Qui si sentono molto sicuri, quindi possiamo arrivare molto più vicino a loro. Nell'interno di questa foto potete vedere un piazzoni. Questo è usato per portare i piazzoni sulle piazzoni dopo il stalking. Piazzoni Piazzoni